Musica Parliamo della serie MWR, che è composta come al solito da due canne, la MWR Match e la MWR Car. Sono due canne a due basi parallele. Per la costruzione di queste canne sono stati utilizzati dei mandrini ormai ben conosciuti al pubblico italiano, che sono i mandrini della serie Jurassic, l'anno 2020. Dei mandrini che ci hanno permesso di utilizzare dei materiali molto performanti, con un diametro molto contenuto. La MWR Match è una canna che si presta benissimo alle competizioni in canale, è veramente piacevole nell'utilizzo perché ha il calcio che è leggermente più grosso nella parte finale della canna, dove lo andiamo a impugnare e ci permette di avere un'ottima bilanciatura dell'ottrezzo in mano. I materiali usati sono tutti materiali torai, quindi top di gamma per quanto riguarda le fibre di carbonio. Monta di serie il kit MWR 500, kit light, e sono applicati sulla canna tutti i principali brevetti Reglass, come Fusion, Teflon Joint, Anti-Friction e Clean Cap. La sorella MWR Carp è una canna, a mio avviso, veramente bella. Può essere utilizzata a 13-11 metri, utilizzando sempre la medesima base serigrafata. Questo ci permette di avere un'ottima bilanciatura dell'attrezzo anche quando peschiamo a corta distanza. Sulla canna viene montato il kit MWR 300, che è un kit da carpe, un kit che però può essere molto performante anche nelle pescate a 13 metri tutta carpe. Sulla canna viene montato il kit MWR 500, che è un kit di carpe, Sulla canna viene montato il kit MWR 500, che è un kit di carpe,